Ben ritrovati in prima edizione del nostro magazine. Nuove sfide attendono le cooperative dell'isola particolarmente attive sul fronte della valorizzazione e gestione del patrimonio culturale e paesaggistico. Cultura e turismo sono i due settori che dopo il sociale e i servizi e addirittura ancora prima della sanità assorbono gran parte delle cooperative che operano nel sistema dell'accoglienza in Sardegna. Una realtà attiva e vivace che nell'ultimo anno ha prodotto un fatturato di poco superiore ai 3 milioni 670 mila euro e la conferma di oltre 20 imprese e quasi 150 soci che aderiscono a Conf Cooperative. Federazione che ha riunito a Cagliari il popolo delle coppe per fare il punto sulle sfide del futuro. Sono tante le cooperative che lavorano nei settori culturali, nel settore turistico, anche nella ricettività. Qual è la situazione al momento? Sono un numero molto importante di cooperative che rappresentano una base sociale fondamentale di Conf Cooperative Cagliari, cooperative che si occupano di garantire il nostro patrimonio artistico, culturale e ricettivo. Mi piace sottolineare il senso di creare ricettività anche laddove precedentemente ci sono siti abbandonati. Oggi abbiamo proiettato una splendida esperienza di una nostra cooperativa di un castello che era abbandonato, il castello di Silicua, creando percorsi ricettivi, arrivano i pullman, arrivano i turisti, in qualcosa che per tanti anni è stato abbandonato. Ritengo che la sfida più importante per il futuro sia quella di valorizzare il patrimonio turistico che ancora è nascosto, è sottoterra. Abbiamo una rete importante, la famosa rete di Nuraghi, che può diventare un potenziamento per l'arrivo e la ricezione di turisti non solo durante gli importanti mesi estivi ma tutto l'anno. Le nostre cooperative garantiscono supporto e sostegno all'attività ricettiva attraverso non solo le strutture alberghie, le strutture anche museali, i percorsi culturali, la valorizzazione monumentale e storica delle nostre realtà. Particolarmente attive sul fronte della valorizzazione e gestione del patrimonio culturale e paesagistico, queste iniziative imprenditoriali rappresentano una quota importante del tessuto produttivo isolano, soprattutto per le innumerevoli opportunità di sviluppo di tutti i vari prodotti, mercati e segmenti della filiera. Dei beni culturali e ambientali, dalla montagna al mare fino ai laghi, dalle ere protette alle terme e salute fino al turismo religioso. Per poter sostenere questo settore, questo settore non può essere considerato totalmente staccato dal rapporto con la pubblica amministrazione. La partnership con la pubblica amministrazione regionale in primis è la chiave fondante per garantire il successo. Occorrono quindi non solo la riconferma degli strumenti di sostegno al settore recitivo e culturale presenti, la conferma di questi ultimi, ma anche il potenziamento delle risorse per il prossimo quinquennio. Rimaniamo sempre sulla voce turismo, però parliamo adesso di quello equestre. Vediamo. C'è il sigilo dello Stato, anzi c'è la volontà di scommettere e puntare molto, tanto, su una disciplina sportiva che è, in Sardegna, ha sempre avuto una tradizione importante, l'equitazione e tutto il mondo che le gira attorno. E, allora, tra le 37 leggi regionali per le quali il Consiglio dei Ministri non ha deliberato l'impugnazione, c'è anche quella per il riordino del comparto ippico ed equestre dell'isola. Tradotto in concetti semplici e immediati, incentivare e implementare lo sviluppo economico e sociale dei diversi settori della Sardegna attraverso la realizzazione e la diffusione del turismo equestre. Già, il turismo equestre. Chi l'avrebbe mai scritto, letto e pensato solo qualche anno fa? Il turismo equestre è una cosa molto importante per la Sardegna perché unisce la passione che il sardo apre il cavallo, l'allevamento del cavallo sardo che è fondamentale, è proprio una passione e un lavoro per tanti, è una tradizione, esatto, con il turismo che nella nostra terra è una risorsa immensa. Insomma, ci sono le direttive regionali e c'è la visione che promuovere e incentivare la diffusione del turismo equestre possa diventare strategico per tutta l'isola, uno strumento di diversificazione delle stesse attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, l'interscambio tra flussi nelle zone costiere e le aree interne. Il turista viene qua e magari attraverso il cavallo scopre luoghi, cioè in due parole per farla breve, la valorizzazione del territorio attraverso il cavallo. Sì, esatto, infatti come FISE noi abbiamo un dipartimento che si chiama Equitazione di Campagna dove verrà praticato anche il turismo equestre. Bisogna creare prima una buona offerta con delle ipovie e delle regole certe in modo che tutti gli operatori possano sapere cosa devono e possono fare. Aggiungo, la Sardegna ha un primato, forse pochi lo sanno, abbiamo un bel primato. Sì, sì, noi siamo i produttori del cavallo italiano, noi produciamo il 60% di tutti i cavalli in Italia. Che sia turismo equestro e dunque, con la benedizione della legge regionale che tra i tanti comma spiega e offre una serie infinite di possibilità, di sviluppo in particolare, incentivando tra le tante iniziative la vacanza a cavallo con itinerari turistici, non solo. La gita a cavallo, se così vogliamo definirla, offre al visitatore la possibilità di conoscere il patrimonio architettonico locale, i beni ambientali e storico-culturali. E ancora, le attività produttive e artigianali di quel piccolo centro, previsto, tra l'altro, anche il sostegno, anche attraverso Montepremi, agli ipodromi sardi riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura. Un minimondo, insomma, a vocazione turistica, guardando e scoprendo la Sardegna dall'alto, dall'alto di un cavallo. La nuova sfida si chiama intelligenza artificiale ed è pronta a conquistare, anzi, ha già iniziato anche il mondo del turismo per guidarlo verso un futuro sempre più competitivo. Vediamo. Il futuro del turismo e dell'ospitalità passa attraverso l'intelligenza artificiale, anzi, il mondo cyber ha già cominciato ad invadere mercati e stimolare imprese per accrescere la competitività in un settore che, più di altri, è vocato all'innovazione per ridefinire l'esperienza turistica, dalle semplici prenotazioni fino al riconoscimento facciale che elimina il passaporto cartaceo, una sfida che può e deve essere colta anche dalle tante attività imprenditoriali dell'isola. Questa innovazione relativa alla intelligenza artificiale dobbiamo domandarci se volerla cavalcare o se volersi fare travolgere come da uno tsunami. Il tessuto commerciale, soprattutto quello del commercio di vicinato e soprattutto quello dei centri urbani della provincia italiana, si sono già fatti travolgere in passato dalle piattaforme, dalla concorrenza. Il punto su intelligenza artificiale e cyberculture il futuro è già qui in un seminario organizzato dall'associazione di categoria in programma venerdì prossimo per approfondire pro e contro di una realtà aumentata che oltrepassa l'intelligenza umana capace di pensare e ragionare al di là della nostra comprensione. L'intelligenza artificiale è già entrata nelle aziende, molte aziende già la utilizzano in modi diversi. Questo convegno vuole dare uno spaccato a quelle che possono essere alle opportunità da un lato ma anche una casetta degli attrezzi per quanto riguarda invece uno sguardo a quelle che sono anche, come dire, minacce no ma sicuramente delle criticità da prendere in considerazione. E sui risvolti pratici, quelli immediatamente applicabili al vivere quotidiano Dubai per esempio, è già pronta a lanciare i viaggi senza passaporto e controlli dei documenti. A partire da marzo infatti sarà possibile l'ingresso nello scalo degli Emirati senza portare fisicamente con sé i documenti. Attraverso la tecnologia biometrica del riconoscimento facciale i passeggeri potranno transitare attraverso l'immigration attraversando una porta prima della quale sarà eseguito il riconoscimento che varrà anche come carta d'imbarco. Il sistema eliminerà l'area di attesa al customer e i banchi in imbarco in aeroporto riducendo così i tempi e migliorando la soddisfazione del cliente. Abbiamo la necessità anche di confrontarci con aspetti che riguardano la privacy, ne parliamo tanto, il fatto che chiunque ci possa riconoscere con una telecamera e possa sapere dove siamo, perché e cosa stiamo facendo in qualche modo potrebbe essere anche questo un dato che dobbiamo ottenere in considerazione. Per la cultura vi raccontiamo di una bella notizia, classifica sorpresa nel portale Eulidu, Cagliari è tra le top ten della città d'arte più apprezzate d'Europa. Un voto che si è meritata grazie al numero di eventi legati alla letteratura. Vediamo. Cagliari nella classifica delle 10 città d'arte d'Europa e il suo punto d'onore è la letteratura. A rivelarlo un noto portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza, Eulidu, che ha stilato la classifica delle top 20 città d'arte d'Europa, valutando le ricerche degli utenti su internet e in particolare su Google Maps. Eulidu in base ai suoi algoritmi ha calcolato i dati delle ricerche in base alle sette discipline artistiche, pittura, scultura, architettura, musica, letteratura, arti performative e cinema. Un'analisi utile al portale per poter suggerire ai suoi utenti il miglior viaggio possibile in base alle loro inclinazioni e passioni. Ebbene questa classifica generale che fa la media delle scelte pone nella top 10 delle città d'arte d'Europa, Lecce, che supera Mantova e Matera. Parigi, la città più romantica del vecchio continente, in questa classifica si trova solo al quinto posto, dopo arrivano Bilbao, Città Basca, Cosenza e Cagliari. Un buon ottavo posto in sostanza, che non è proprio male se si paragona il capoluogo SAR da città come Berlino, Vienna, Praga, restando in Italia, ad esempio Pavia e Firenze, sono solo al tredicesimo e quattordicesimo posto. Un calcolo che è basato principalmente, spiegano da Holidu, sulla presenza di istituzioni artistiche ogni 10.000 abitanti. La densità, insomma, di questi luoghi di cultura per numero di residenti. La classifica generale si articola poi in specifiche sottoclassi e se per esempio per la pittura e la scultura al primo posto c'è Urbino, per quanto riguarda la musica, la regina è Brighton in Inghilterra. Il teatro e il cinema sono di casa a Mantova, che è al top rispetto a Bordeaux in Francia, che è solo seconda. Il trionfo di Cagliari arriva nel campo della letteratura, classifica cappeggiata anche questa volta da Urbino, ma al quarto posto c'è il capoluogo SARDO, che supera Mantova, solo al quinto posto. Il motivo di questo buon posizionamento è dato dai numerosi festival letterari che arricchiscono l'offerta di attività culturali della città. E certo, l'amministrazione non ha sbagliato quando ha inteso finanziare coordinare varie attività sotto un unico nome, Cagliari Città che legge. E sì, perché pare che gli abitanti di questo luogo, baciato dal sole per gran parte dell'anno, amino molto i libri e i loro autori, i quali a loro volta, specie se provenienti da altre parti d'Italia o d'Europa, siano ben contenti di essere invitati ai vari eventi, cogliendo l'occasione così di visitarla questa città. Una nota inaspettata, un premio ai tanti organizzatori di eventi e associazioni culturali appassionati che questi eventi animano e popolano. Senza un pubblico partecipe, infatti, non avrebbero senso e il plauso della raggiunta popolarità di Cagliari su Holidu, va anche a loro. Adesso andiamo a Pula per raccontarvi dell'ennesimo successo della manifestazione Domus Antigas. Vediamo. L'edizione di Domus Antigas siamo felicissimi e già soddisfatti perché la mattinata è già tutto strapieno, ci aspettavamo tanta gente, ma non così tanta, quest'anno ci sono un sacco di novità. Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto perché siamo riusciti a portare 20 cantine da tutta la Sardegna che stanno presentando i loro vini naturali. Ci sono dei lavoratori che stanno lavorando con i bambini per fare i giochi come quelli che facevano i loro nonni. Un laboratorio creativo dove si riesce a decorare i dolci sardi. Insomma, quest'anno abbiamo aperto anche la Villa Santa Maria che per noi è un simbolo per Pula. Tutti sono contenti, i commercianti sono contenti, i paesani sono contenti e il nostro intento era proprio quello di vedere la gente felice con il sorriso. Quindi grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato, in primis l'amministrazione, ma soprattutto grazie ai Pulesi perché grazie a loro se questa manifestazione si è ripetuta e penso che quest'anno sia solo la conferma che il Pulesi è quello che vuole. È una sinergia che parte dal gruppo dei giovani della Proloco di Pula. Senza di loro, anche hanno fatto un grandissimo lavoro, ma quello che noi crediamo è veramente nella forza dei giovani quell'esperienza dei vecchi. Questo è quello che possiamo dire, quindi grazie anche a loro. E' bello vedere tanta partecipazione sia dalle persone che ci vengono a trovare in questa manifestazione, sia dei piccoli e grandi preditori di paese, commercianti, proprietari di casa, artigiani. Il gruppo si vede, oggi si vede, la forza del gruppo si vede, tanta partecipazione e noi siamo felici dell'obiettivo che abbiamo raggiunto per la seconda volta e ci aspettiamo che tutti si divertino e passino una bella giornata qui in paese con noi. Bene, noi ci fermiamo qui. Grazie per averci scelto anche per questa edizione. Arrivederci alle prossime. Grazie per aver guardato il video.